video velocissimo velocissimo perché poi questo video esploderà perciò vi volevo dire perché è sconveniente comprare profumi economici io sono il primo che li acquista però li acquisto per prova ora vi dico il motivo uno dei motivi per i quali non acquistare i profumi economici è semplice è semplicissimo perché non durano voi comprate un profumo economico che costa 10 euro 15 euro si parla di profumi economici in teoria anche quando si parla di 20 euro 25 euro 400 milioni di euro però quando voi comprate un profumo economico di 10 euro 5 euro 8 euro alle note di test sono le prime note che noi sentiamo nella piramide della piramide olfattiva come ben sapete voi che siete esperti o ancora non capisco un caso di qualche sfronzata e quindi voi sapete benissimo che c'è questa piramide olfattiva e quando voi vi spruzzate il profumo al più di fatto avete questa bella fragranza che vi arriva nel naso e poi magari può cambiare può peggiorare può anche migliorare buona le note di cuore note di fondo che sono quelle che si sentono all'ultimo un profumo calcoliamo che un profumo di qualità dicono io non ho esperienze e quindi riferisco quello che dicono gli studi perché comunque mi informo mi sto studiando faccio ricerche e faccio cose che mi permettono di saperne sempre di più e ascolto anche persone che ne sanno più di me quindi dicono un profumo di qualità però parlando di profumi costosi veramente costosi durano dalle addirittura 14 ore parlando di profumi di commerciali dovrebbero durare dalle 6 alle dalle 6 alle 10 ore mi sembra i profumi che si compra a 5 10 euro durano dall'uno al secondo minuto cioè non durano un cazzo ho parecchi profumi economici la la fragranza è bellissima buonissima lo fanno apposta per attirare il cliente quindi vi mettono una fragranza veramente buona così voi come i pesciolini che vedono l'amo si attirano anche io sinceramente lo faccio perché è una prova e vanno acquistare questo bellissimo profumo e al al prezzo di appunto di vendita che può girare dai 15 10 euro 8 euro ora io come tutti i profumi che ho mi durano il tempo di una scorreggio